e dovrebbero sentirti allora dovrebbero sentirci allora ragazzi buonasera buonasera a tutti qui stasera quanto pare non sono solo strano è una cosa inusuale esatto perché non sono solo fatemi mettere un attimo la chat da un'altra parte che nel frattempo metto a schermo intero allora perché non sono solo probabilmente potreste riconoscere questa fantastica persona perché recentemente c'è stato un piacevole annuncio un piacevole annuncio ossia questo annuncio è stato fatto su vari gruppi io stesso ne ho parlato perché avrei detto stasera parliamo di questa cosa questa cosa è Black Library in italiano è già qua perché abbiamo in italiano che adesso già tipo io mi sento in colpa perché tipo gli ultimi due anni li ho passati a dire no raga non illudetevi non è vero non arriva in italiano non sparate cazzate e adesso io no ok scusate sbagliavo io evidentemente ma meno male felice di sbagliarmi felice di sbagliarmi assolutamente e quindi e quindi presentati mio signora mio ospite ragazzi ciao a tutti ragazzi sono Francesco sono il conduttore di Neo Custom Miniatus Vlog TV qualcuno magari lo conosce da YouTube piuttosto che da Instagram ho aperto tipo a marzo 2020 il canale il canale sta andando bene e l'ho tirato su pian pianino e poi tramite sponsor perché adesso il canale ha 12 sponsor circa ovviamente tutti inerenti alle miniature o ai giochi di ruolo perché quello tratto io sostanzialmente il mio canale faccio da hub per tutti gli altri quindi io potrei tranquillamente farvi capire invitare Sacco da me e intervistarlo chiedendogli che cosa fa per dare ridondanza a quello che che fai tu insomma Sacco per capirci e tra l'altro ti ringrazio tantissimo dell'ospitalità perché assolutamente è stata fatta al volo e mi fa molto piacere esatto il piacere e un onore tanto quando si fa abbraccio sono le cose migliori sempre e niente quindi insomma questo faccio e poi adesso appunto ho annunciato tre sere fa o due sere fa che come portavoce di Alla Nere Edizioni che è questo nuovo brand editoriale che porterà la Black Library in italiano in Italia mi fa molto piacere mi fa molto piacere grande grande cosa perché comunque effettivamente comunque non c'erano grandi aspettative effettivamente su queste cose diciamo che tanti ormai si erano rassegnati al non non ricevere delle traduzioni perché appunto effettivamente dopo tanti anni non si era trovata più una una casa editrice poi diciamo che c'era sempre un po' questa mentalità del doveva per forza esserci la mega casa editrice conosciuta da cent'anni perché siamo stati abituati bene o male a sentire sempre nomi come mondatori quindi dici per forza dovrà essere preso da gente di questo tipo quindi non c'è speranza o cose e invece dietro magari a dei nomi nuovi si nascondono delle persone invece molto competenti e molto promettenti quello che serviva era un team solido quello era il punto è che appunto in passato la Black Library ha avuto momenti infelici tra virgolette in Italia perché stava venendo fuori la community c'è non è che non c'è sicuramente la community che legge Black Library in italiano c'è assolutamente ma io stesso ai tempi mi chiesi come mai certe cose certe situazioni che poi giustamente non sono mai state dette però finiva lì e si interrompeva lì un percorso che era bellissimo per gli oppisti e serviva in sostanza un gruppo solido ora il gruppo solido il team c'è ci sono tanti collaboratori già adesso e alla mia edizione ha alle spalle gente che da 25 anni fa solo questo cioè traduce giochi di ruolo e quindi giochi per miniature eccetera quindi è solidissimo e quella è la cosa importante è la cosa che probabilmente voleva anche Black Library vi dico subito che vi do qualche spoiler ovviamente stasera non vi potrò dire tutto perché poi vi rimando se è possibile a martedì sera certo assolutamente assolutamente se vuoi fare un ride da noi capito così ci vediamo volentieri la Weird Edizioni in questo caso mi ospita perché Weird ha creato un contenitore il martedì sera che condurrò anch'io insieme a Elvis che è il loro conduttore storico di Weird che quindi è una cosa a sé stante però loro hanno fatto una sorta di hub come sto facendo io con il resto e tutte le grandi realtà come alle mie edizioni sta annunciando di essere ovviamente vogliono ospitarci per capire che cosa stiamo facendo e quindi saremo lì martedì sera alle 21 sarò in diretta live un'oretta e potrete spremermi come un limoncino praticamente facendomi tutte le domande del mondo non so a quante potrò rispondere ma ovviamente ho un'autorizzazione si possono fare poi le risposte perché si può certo certo sì però risponderò insomma il più possibile non è che dirò intanto intanto in chat mi fanno una domanda che ovviamente una delle chiaramente una delle domande fondamentali una domanda Requiem rimane Requiem? Requiem rimane assolutamente Requiem immaginavo però era lecito chiedere sì sì allora questa è una cosa importante che poi giustamente discuteremo a fondo martedì sera la cosa importante del gruppo del team solido che c'è alle spalle è che c'è gente come me che ha fatto il manager anche all'interno di Games Workshop ufficiale io ero in GV Italia ero il manager di Firenze per tanti anni quindi e poi lavoravo prima con il negozio mio di trade eccetera quindi gente come te sacco che ha respirato Games Workshop nei termini nel lore nel background e quindi è gente che quando si ritrova di fronte a situazioni come Requiem non va a tradurre in italiano siamo qui per fare le cose come vanno fatte quindi tenteremo di rimanere il più possibile vicini a quelle che sono le traduzioni attuali dei codex sostanzialmente e anche codex rimarrà codex non diventerà codice state tranquilli quindi questo è il mood con cui stiamo traducendo e stiamo lavorando tutto qui preciso solo una cosa che è stata detta in chat e Weird non è direttamente partecipante al progetto alla nera edizioni è un progetto assistante Weird ospiterà però Francesco per il suo show questo perché Weird Edizioni è uno sponsor del canale di New Custom Miniatures io ho collaborato con Weird a per esempio il trailer di Lex Occultum piuttosto che appunto ospito spesso ho ospitato anche loro ho ospitato anche Massimo Elisabetta che sono i direttori di Weird in un'intervista che potete vedere sul mio canale per capire chi sono e cosa fanno è un brand insomma in cui io credo tanto e loro hanno creduto in me quest'anno e quindi sostanzialmente quando io ho detto guarda che facciamo sta cosa col team hanno detto cacchio fatti fattici vedere fatti sapere e quindi si hanno invitati quindi sono competenti due cose a se stante due brand a se stante vabbè era giusto giusto per precisare al senso almeno avevamo idea di chi era chi e chi faceva cosa esatto 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 sì sì poi ovviamente sicuramente poi tutti i nomi verranno fuori sul sito chi lavora non è che alla nera edizioni sono tipo gli oscuri capito gli dei oscuri del world verranno fuori assolutamente anzi infatti cercate cercate la nera edizioni su facebook che hanno comunque già la pagina facebook appena aperta ho visto che hanno il sito in costruzione che immagino che tra poco arriverà quindi nel senso sì 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 stiamo solo aspettando appunto vabbè insomma martedì sede insomma avremo già diverse cosine in più da raccontarvi quindi andrà un passo alla volta ma al mano nel senso eravamo da passare a una situazione in cui era il buio più profondo nel senso gioco esatto siamo un passo avanti quindi assolutamente ti ringrazio dell'ospitalità perché quando poi ho letto oggi ne ho letti tanti gli annunci perché ovviamente questa cosa ha tirato giù il world per appunto quindi è andata bene però quando ho visto il tuo perché mi sono interessato insomma ai canali più importanti guardando sul tuo ho visto che volevi parlare stasera e allora ho chiesto autorizzazione a poter fare una comparsa già ieri mi chiedevano in live quando ero lì su Total War Warhammer mi era stato già chiesto ma parlerai di Black Library ho detto è un argomento di cui sicuramente voglio parlare ma so che mi dilungo quindi ne parlo nella live che si chiama chiacchiere apposta certo certo sicuramente c'è una storia travagliata ma anche bella in Italia di questa attesa che c'è stata sono quasi 16 anni credo che c'è gente che aspetta tipo Horus tradotto ma tutta tutta l'eresia di Horus non il primo volume o il secondo che poi non c'è anche il secondo quindi insomma no infatti siamo rimasti proprio lì ci hanno detto ti piace il primo libro? e fottiti e poi martedì vi daremo anche qualche informazione bella insomma su cosa vogliamo fare qualche progetto insomma qualche informazione un po' più solide insomma anche perché stiamo aspettando appunto di poterle dire le cose però insomma il progetto è solido ci stiamo già lavorando da un anno come dico anche nel canale di youtube quando faccio un annuncio quindi siamo già molto preparati insomma all'uscita ecco al bene bene a diventare parte dell'universo italiano capito perché conosciamo io personalmente poi conosco bene la community quindi avendo fatto il manager dentro chissà ora magari quanti ti stanno seguendo che sono miei ex clienti del negozio e niente insomma il canale pagine varie sì sì fate proprio conto che sai quando dicono giochi fatti dai giocatori questi sono proprio libri tradotti da giocatori da gente che è appassionata c'è tutto un cuore dietro e quindi chiaramente penso che quando ci sia il cuore poi la cosa importante sia capire che c'è la passione e il cuore dietro il resto viene da sé arriveranno gli errori ci saranno magari io l'ho detto benvengano che appunto poi discuteremo con la community stessa bellissimo l'intervento della chat di Requiem perché è l'esempio lampante cioè discutere insieme con la community ho visto che abbiamo lasciato anche per esempio per darti un'anteprima che posso darti delle situazioni in cui i giocatori italianizzano l'inglese tipo adesso non mi viene in mente niente se non l'hai settato cioè hai settato il tuo classico neologismo l'hai settato capito che è un participio che non esiste magari no ovviamente si crea nel linguaggio comune esatto stiamo tentando di mantenerlo in modo tale che i giocatori si riconoscano capito e che non trovino differenze fra il codex e quindi i regolamenti e i romanzi che comunque sono due cose completamente a sé stanti perché Black Library è completamente a sé stante spazia nel lore di Warhammer 40.000 di Warhammer Fantasy e di Age of Sigmar e quindi insomma così poi insomma dall'altra parte Games Workshop ci stanno giù dentro alla grande perché escono novità poi siamo anche proprio in un momento in cui parlando proprio della situazione italiana siamo in un momento in cui essendo appena arrivata la non edizione siamo davanti a uno non dico stravolgimento però comunque un grosso cambiamento dal punto di vista della localizzazione italiana nel senso abbiamo affrontato tempi di sesta ma perlopiù settima in cui avevamo veramente un eccesso di termini che non erano tradotti tant'è che c'erano addirittura termini che non erano nemmeno termini di Warhammer erano proprio semplici termini inglesi che dicevano no e poi già l'ottava abbiamo avuto un po' di morbidezza riguardo a certe cose però questa non effettivamente ha segnato un po' un grosso ritorno a tanti termini italiani e non solo appunto quelli che dici normale traduzione tipo captain che grazie al cielo si chiama capitano ma anche tanti termini normali di Warhammer che hanno recuperato un po' la loro traduzione a parte vari che nel senso vari hanno deciso un po' di recuperare diciamo le radici della seconda edizione in cui tante fazioni tanti nomi propri venivano lasciati con il loro nome proprio in lingua originale chiaramente chiaramente c'è proprio una linea vedo molto più precisa adesso e mi fa piacere vedere un po' da un lato che è molto anglosassone come mentalità quella di fare in modo faccio l'esempio del Big Mac al McDonald anche se non è la stessa cosa perché qui parliamo di qualità e il Big Mac magari è molto cheap però il Big Mac è lo stessa cosa a New York piuttosto che a Parigi piuttosto che a Venezia dovrebbe perlomeno essere uguale perché chi è cliente a McDonald's sa che quando mangia Big Mac mangia quello quindi qui è uguale è bello che la GV stia dicendo se tu dici Requiem in Italia trovi Requiem anche a Parigi no hanno delle linee guida che ora sono un po' più precise un po' più esatto esatto ed è molto bello che ci sia questo ponte finalmente e averlo in italiano è un'altra cosa ho visto che tu parlavi di Necromunda l'altro giorno sì dalle altre devo ancora mettermi a dipingere tutto ma io ho preso tutti i scatoli devo cominciare a fare appunto puntate proprio con le partite in studio e Necromunda è meraviglioso e sembra incredibile che non sia ancora tradotto in italiano io ultimamente sto proprio dando molta attenzione a Necromunda perché diciamo che il 2021 ha segnato una bella attenzione videoludica nei confronti di Necromunda perché è uscito un gioco che si ispira più alla parte appunto diciamo classica trasposizione del gioco da tavolo anche se con un po' di cambiamenti e un altro che invece vuole proprio metterti nei panni di un cacciatore di tagli protagonista che percorre la sua storia in uno sparatutto e quindi diciamo due giochi già ben due giochi nel corso di circa metà anno e oltre a questo comunque diciamo che alla fine proprio non solo in questione Black Library ma in generale Necromunda ha sempre ricevuto pochissima traduzione perché stiamo comunque parlando dei giochi da tavolo tipo Battlefield Gothic e Necromunda che purtroppo anche dal lato manualistico hanno sempre ricevuto pochissima traduzione quindi ultimamente le sto dando un bel po' di attenzione perché se la merita perché letteralmente è un'enorme sottoambientazione all'interno di Warhammer 40.000 è proprio uno zoom superiore a Kill Team per dire che è lo zoom del 40.000 è proprio secondo me è uno zoom eccezionale del lore di Warhammer 40.000 ed è bellissimo perché vai a scavare in un veramente tra virgolette uno spin-off rispetto al gioco Necromunda letteralmente se uno lo prendesse da solo non gli verrebbe nemmeno il pensiero di dire ah ma quindi è uno spin-off di qualcos'altro perché è talmente vasto che non ci pensi che non sia già una sua ambientazione a sé tu dici ah boh è un'ambientazione fantascientifica ambientata su questo pianeta perché è già enorme di sé da solo infatti credo che appunto questo sia molto bello poter scavare a fondo su romanzi piuttosto che scusate che nel frattempo passava gente mi sono distratto ma c'è una community qua e sì insomma quello è insomma sono contento che ci sarà un ponte e finalmente gli italiani potranno godersi le sfumature perché giustamente ormai l'inglese lo studiamo a scuola fin dall'elementare e quindi va benissimo no e anche io mi sto godendo da sempre i romanzi in inglese però le sfumature in italiano che tra l'altro è una lingua molto ricca che ti permette di fare veramente e si siamo trovati anche in situazioni in cui abbiamo proprio deciso se far dare del lei piuttosto che del tu a un capitano certo guardate che sono veramente delle situazioni incredibili assolutamente l'inquisitore l'inquisitore si fa dare del lei sempre o qualcuno si può permettere di dargli del tu perché non si sa diciamo che ovviamente nella lingua inglese magari te lo possono fare intuire più magari con l'atteggiamento perché non avendo proprio una forma linguistica di quel tipo esatto quindi secondo me l'italiano ci darà quella sfumatura diversa proprio grazie alla lingua nostra che è bellissima che sarà godibile sicuramente leggersi io è chiaro che da fan non vedo l'ora di vedere l'elesia di Horus per dire completamente assolutamente quando l'avrò tutta nella mia libreria capito allora il potere capito è un sogno meraviglioso che si deve realizzare perché tutti l'aspettiamo da sempre no e tra le altre eccezionale anche leggere in inglese dici porca miseria ma cosa aspetta un'altra turla che è un bestseller praticamente eh sì siamo a quei livelli mi è piaciuto proprio rispetto all'ambientazione di Warhammer 40.000 è un commento che avevo trovato su una discussione di Reddit e c'era una discussione su una scena tratta da un romanzo ed era letteralmente una scena in cui letteralmente sparavano dei missili contro un'altra nave per poi lanciare altre navette schiantarsi fortissimo ed entrare nella nave tipo una quantità di esplosioni che superava il migliaio solo per entrare in una nave ed era bellissimo un commento a riguardo perché diceva ma io questa scena per altre se la dovessi vedere in qualsiasi altra serie tv libro o qualsiasi altra cosa dovrei come minimo aspettare sei stagioni e cinque altri episodi mentre questa cosa è l'inizio ma bam hai capito per questo amo Warhammer eh sì è vero è vero sì Warhammer è eclatante no cioè è sempre eclatante no quindi cioè basti pensare che un'epurazione insomma saltinare un pianeta quindi quando arrivano è proprio un lunedì esatto così passato così andiamo lì e facciamo questa cosa schiacciamo un bottone a queste in questo caso nel 40.000 poi c'è questa cosa che magari andando nei giochi discutendo proprio tra fai conto tra Newcastle Miniatures e l'astropate c'è questa cosa incredibile di Warhammer Old World che sta per venire fuori che non sappiamo quando arriva tanta tanta curiosità che anche lì c'è sicuramente c'è un hype pazzesco perché è incredibile cioè l'hanno lasciata perché i giocatori dicevano è un po' statico il 40.000 è più figo poi più che altro proprio perché c'erano anche lì avevo un po' di informazione a riguardo che le vendite stavano purtroppo precipitando terribilmente purtroppo già ai tempi miei di quando io ero dal fate conto 2004 2010 in GV Firenze effettivamente il fantasy non è che non vendesse cioè vende alla stragrande però il punto è il punto è che era un gioco fatto in maniera tra virgolette statica ma volutamente perché giustamente nel medioevo si muovevano a ranghi eccetera eccetera e il 40.000 era talmente più smart anche specialmente a quei tempi lì sì era anche proprio era già un po' più pensato per i tempi in cui stava vivendo il gioco sì sì e il regolamento ha sempre funzionato alla grande quindi la gente alla fine comprava Warhammer adorava le miniature da dipingere quando poi faceva la partita estemporanea e quindi non era il giocatore assiduo del club ma quello che veniva in negozio a giocare una volta a settimana godeva nel giocare a 40.000 perché si faceva quelle due ore smart sì sì e quindi ha cominciato probabilmente ad avere un un calo no? e quindi è arrivato Ejo Sigmar che un pochino è il 40.000 trasposto in se vogliamo trasposto nel fantasy no ma sicuramente offre diciamo più vastità nel senso ti dà il classico più dinamicità un'ambientazione molto più grande che dà sicuramente molto più spazio al io mi invento quella cosa laggiù perché certo ha un ambiente molto più vasto più nuovo dinamico eccetera ma la cosa che sicuramente è interessantissima è che ora sta arrivando l'effetto tipo tsunami che torna indietro eh ma infatti cioè mi piace perché comunque nel senso il fatto che loro abbiano fatto Ejo Sigmar non voleva dire che loro volessero ah ok boh Warhammer fantasy una merda non ci piace più perché comunque loro fuori dal Wargame hanno continuato nel senso a volerlo supportare tramite altre cose ma io io stesso sentivo di persone che comunque volevano riportarli in qualche modo che comunque erano contenti che la gente continuasse ad esserne affezionata tramite tutto il Warhammer o anche Vermintide che sono due giochi che hanno fatto molto successo negli ultimi anni che appunto videogame piuttosto che cos'era la Black Library stessa anche se ovviamente c'è stato sicuramente un focus maggiore su Ejo Sigmar perché comunque dovevano coltivare questa nuova ambientazione ci sono state alcune storie che erano ancora ambientate nel vecchio mondo ed intorni ma poi comunque tantissimo Ejo Sigmar in realtà si comprende meglio e si apprezza meglio proprio se tu conosci il passato ci sono interi personaggi io penso proprio alla recente saga di Broken Realms questi manuali narrativi di Ejo Sigmar letteralmente la metà se non di più delle storie se tu non conosci Warhammer Fantasy non te le godi a pieno cioè tutte le origini di tantissimi personaggi o interi discorsi che si fanno ad esempio Nagash, Teclis, Alariel tantissimi personaggi se tu non conosci il vecchio mondo dici vedi che stanno parlando non capisci esatto ti sembrano appunto solo termini leggendari che effettivamente per gli abitanti di quell'ambientazione sono solo leggende però per te che magari conosci il passato delle ambientazioni dici diamine io so di cosa parla io so da dove arrivi è come averlo vissuto tra le altre tu eri lì a combattere esatto c'era Karl Franz che stava combattendo capito sul campo ai tempi contro che ne so Gaskul quindi Gaskul in questo caso no per 40.000 scusami Azag ovviamente Azag stavo pensando già al 40.000 e il discorso è quello per esempio tra l'altro Azag è una miniatura che a me manca tantissimo cioè è una roba che avrei voluto rivederlo in qualche modo spuntare fuori dai portali del nuovo di Age of Sigmar però diciamo che è incredibile che ci sia questa risacca dell'onda per cui la gente adesso ha di nuovo voglia di giocare a qualcosa di statico io ho visto in trasmissione da me quando ho fatto la recensione del Trono di Spade della Canon che è sostanzialmente il fantasy perché quello è reso un po' più dinamico dove hanno levato la masia sostituendola con la politica questo è praticamente ti beh comunque immagino che allo stesso modo comunque di Old World non sarà comunque figlio dei propri tempi nel senso sicuramente non sarà Warhammer Fantasy ricopiato con una nuova cosatina nel senso infatti io mi aspetto anche se questa è una speculazione su cui tanti sicuramente stanno parlando forse anche fra i tuoi e della community tua tante io mi aspetto le basette tonde infilate nelle eh sì ci sono tante tante discussioni al riguardo e immagino personalmente immagino che ci possa essere qualcosa di simile magari al Signore degli Anelli potrebbe essere magari esatto perché comunque potrebbero fare la tonda in modo che comunque tutti i giochi siano abbastanza uniformati su una sola basetta e che permetta maggiori conversioni scambi lo uso là lo uso lì però allo stesso modo dici ok però questo gioco effettivamente l'abbiamo voluto regolisticamente improntare più sui ranghi e quindi effettivamente magari ti forniamo la basetta di movimento classica ovviamente uniformata per le dimensioni delle basette che avrà avranno le gambe di The Old World cioè è quello diciamo più intuibile magari come sistema poi ovviamente si vedrà nel senso questa è una delle domande che per esempio io ti avrei fatto in trasmissione da me se ti avessi invitato già in studio senza il maledetto covid ti avrei chiesto subito tu cosa ne pensi metteranno di nuovo le basette quadrate o mettono le basette toni quella più o meno è la mia ipotesi poi vediamo è una bella ipotesi effettivamente potrebbe andare così sì io ho trovato molto curioso su ovviamente gli eserciti che detta così dici ebbè ovvio però nel senso stiamo iniziando a vedere cose che appunto ai tempi già ai tempi di Warhammer Fantasy non pensavamo mai di vedere nel senso con l'uscita di Total War Warhammer 3 abbiamo visto che c'è stata una grossa e c'è ancora attualmente collaborazione tra Creative Assembly che si occupa appunto della parte videoludica e Games Workshop per appunto portare avanti Warhammer The Old World perché dici bene o male sono progetti gemelli uno su uno schermo l'altro sui campi sui campi sui tavoli e infatti abbiamo chiaramente visto che Creative Assembly ha condiviso dei concept art che sono letteralmente gli stessi di Warhammer The Old World e ciò infatti ci ha fondamentalmente confermato che il Katai ne vedremo i modelli ce l'hanno praticamente detto sono praticamente sì sì adesso sì ti ho visto qualche secondo ma adesso ti vedo di più esatto 15 vuol dire che inizieremo a vedere cose che non ci saremmo mai aspettati un intero esercito di Katai è qualcosa che chi se lo immaginava chissà se cioè io mi ricordo mi ricordo o meglio nel senso no non ero vivo a quei tempi però mi ricordo perché possiedi manuali perché io vado a recuperare le cose più antiche di me perché come al sol se mi piace voglio vedere da dove è nato e come si è evoluto specialmente Warhammer e quindi quando avevo preso in mano i manuali di terza edizione di Warhammer Fantasy quindi 1986-87 vedevi comunque varie truppe per quelli che ai tempi erano appunto le varie nazioni che potevano essere ad esempio il Nippon o altri comunque classicamente ispirate a nazioni luoghi comunque realmente esistenti ma che ovviamente poi non si sono mai tradotti tradotti in reali eserciti grossi andando avanti con gli anni e appunto Katai alla fine era esattamente tra quegli eserciti nessuno si aspettava che sarebbe stato tra quelli proprio trattati ora ovviamente ci sono tanti che dicono ma quindi dopo il Katai sia nel nel videogioco che sui tavoli cosa potremmo mai esplorare perché già il Katai ha un bel po' già di lore carine di lore da esplorare bestie strane costrutti altrettanto strani abbiamo abbiamo scimmie che fanno il kung fu abbiamo draghi cinesi abbiamo una marea di roba dal Katai da parte del Katai che tale altre se ti ricordi era una speculazione proprio dei tempi in cui io ero in negozio a dirigerlo quindi è già dal 2004 2003-2004 che si parla del Katai dove si pensava sì perché per quanto per quanto tra gli eserciti un po' diceva non so se li faranno era comunque quello un po' più vicino perché comunque essendo che comunque avevi già quegli legami con gli ogri già un po' più menzioni nei libri degli eserciti avevi sempre quell'impressione che ma non so forse esatto esatto è vero è vero vediamo dai comunque credo che anche quello sia interessante sempre tornando su alla nere edizioni Black Library italiana sarà interessante vedere cosa uscirà insieme perché faremo in modo giustamente che i giocatori siano supportati da un lore certo e quella è una cosa molto bella se tu vedi uscire fuori l'old world è chiaro che vai a esplorare l'old world se vedi Age of Sigmar piuttosto che 40.000 tenti di fare delle uscite in modo tale che la gente possa capire cosa sta facendo quindi questo lo sopporto posso già dirvelo ora anche se è un'anticipazione rispetto a martedì sera è chiaro che pubblicheremo anche gli ultimi numeri gli ultimi romanzi le ultime cose che stanno uscendo non andremo semplicemente a ripescare il passato e a Horus capito si sarà un lavoro immagino da entrambi i lati nel senso recuperare il passato che tanto ovviamente non hanno potuto godersi perché chiaramente non c'erano ma allo stesso tempo andare a magari offrire diciamo la novità credo è chiaro che Horus fa da background quindi se io ho letto Horus conosco anche poi da dove arrivo tutto al 30.000 e mi posso andare a portare le 40.000 però è interessantissimo anche capire come hai citato tu un Indomitus piuttosto che appunto i nuovi Necron contro appunto capire cos'è un Primaris oggi un giocatore che ha giocato per 20 anni Space Marine io i Space Marine dipingevo adesso ho 45 anni ne avevo 8 quando iniziavo a dipingere i Space Marine che avevano ancora tutti la Corvus di ferro di piombo anzi non di ferro prima ancora del metallo bianco e andavo a farmi le mie passeggiate con la mia paghetta andavo a comprarmi il mio Space Marine di piombo e c'era solo quello c'erano i Space Marine i tiranidi capito e cavoli cioè passare da quello arrivare all'evoluzione della plastica passando dalla resina nel senso a quel tempo lo Space Marine che adesso dici è quello ovvio cioè quello con la griglia davanti era ai tempi cioè cos'è sta merda è nuovo hai capito ora vedi il Primaris e vedi questo figo gigantesco che arriva e spacca tutto io per esempio sono di quelli che magari non sono di quelli per forza nostalgici c'è tipo il quarantenne che lì c'è tutta una scia di quarantenni che per esempio non vedo l'ora di vedere Old World perché a loro piace è così ti affeziona ma poi per carità lecito ti piace ma lecito che tu vogli averlo per carità però diciamo io sono sempre sullo spirito del apprezza quel che vuoi senza ovviamente buttare lo schifo a chiunque apprezzi il resto nel senso face amore anche in guarana innovatore esatto io sono sempre stato entusiasta e innovatore quindi a me piacciono le cose nuove mi piacciono le novità e niente quello che secondo me lì è molto interessante è capire come si arriva al Primaris quindi sarà bellissimo poterlo leggere in un romanzo dove approfondisci davvero la struttura di uno Space Marine di un capitolo eccetera eccetera guarda io stesso quando ho dovuto scrivere Momenti BG51 che letteralmente ho dovuto affrontare una quantità di libri cioè di romanzi racconti che hanno pubblicato a una velocità allucinante che sono uscite fuori cos'erano quasi centomila parole quando l'ho aggiornato sono diventate centoventimila quindi se lo pubblichi è letteralmente un libro lui quell'articolo quindi assurdo tu sai che io te l'ho detto anche prima ti seguo dall'inizio quindi io leggevo il tuo blog ancora proprio all'inizio quando perché riuscivi a sapere cose che non sapevo neanche io da manager ma come fa questo a sapere che escono gli ogre fra due mesi che non abbiamo detto neanche noi quindi ma poi erano anche proprio i grandi tempi dei rumors quelli nel senso poi io stesso ho cambiato un po' il mio diciamo il mio focus nella pubblicazione perché proprio nel corso degli anni c'è stato comunque un cambio di approccio di GV stessa nei confronti delle voci di corridoio perché è iniziato sempre di più a voler comunicare personalmente anche se comunque di rumors continuiamo a sentirne per carità ma in maniera un po' diversa e quindi diciamo che ovviamente non solo per questi cambi di direzione di comunicazione da parte dell'azienda ma anche io stesso ho cambiato un po' il mio focus proprio perché man mano personalmente ne sapevo di più personalmente ne sapevo di più e potendo appunto accedere a le varie pubblicazioni o comunque sapendo man mano facendo io stesso un percorso di studi potendo quindi sapendo scrivere ma dicevo ok allora forse posso scrivere qualcosa che sia scritto decentemente in un italiano corretto per comunicare la lore alle persone sì poi c'è sempre stata questa cosa che una volta forse c'era di più e mi fa piacere che un po' sia sfumata nel senso che la community ha sempre fame di novità ed è incredibile perché tu gli dici sta uscendo il nuovo codex dei blood angels e il nuovo dei space falls e loro sono già lì che pensano ai dark angels no? deve ancora uscire aspetta un attimo aspetta che esca l'hanno annunciato che deve ancora uscire capito un attimo ma quindi ma quindi il prossimo saranno i dark angels capito o i templari neri perché adesso poi c'è la storia dei templari neri non avessero mai fatto il trailer capito quindi ma infatti volevo parlare stasera a un certo punto sì 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 l'hype fa parte fa parte della community della games workshop noi siamo un po' tutti no? affamati di hype su quello che verrà però è strano perché è come se non ci godessimo mai fin in fondo quello che c'è sì quello che poi effettivamente arriva quando arriva boh basta ho smesso di godermelo perché sto già pensando quello dopo esatto è andata ormai i bladenti sono usciti voglio vedere a posto esatto è andata ciao quindi insomma così siete già vecchi mi raccomando esatto quei libri no quando pubblichiamo un libro mi raccomando leggetelo sì infatti tanto poi ne facciamo anche gli altri non vi preoccupate devo scappare perché vedo che ho certo assolutamente il 3% di batteria quindi non vorrei lasciarvi tutti assolutamente mi ha fatto tanto tanto piacere averti qua con me per chiacchierare un po' anche a me e anche a noi di Alanire Edizioni perché ovviamente sono qui in via ufficiale quindi volevamo farti sapere che ci siamo che ti abbiamo letto che abbiamo visto e sicuramente poi grazie avremo modo di proseguire insomma questa avventura però siamo veramente felici che ci sia una community interessata a questa cosa perché ci crediamo tanto ma ovviamente viviamo grazie alla community quindi questo è grazie mille grazie mille allora ci risentiremo ci vediamo martedì sera se ci sei assolutamente assolutamente alle 21 ciao ragazzi grazie mille ciao 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 allora ragazzi adesso un attimo magari compaio io stesso allora un attimo eh arrivo pam eccomi qua ragazzi allora parto subito innanzitutto ringraziando ringraziando eh andriel we che si è abbonato questa sera e anche nimentares che invece ha deciso di seguire questo canale vi ringrazio grazie mille per aver deciso di fare questi due atti molto piacevoli ai miei occhi durante la mia conversazione con francesco grazie mille è stato è stata una sorpresa questa 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 chiacchierata non ve l'ho annunciata proprio perché effettivamente non non ve la potevo annunciare è stata letteralmente una cosa dell'ultimo momento una cosa dell'ultimo momento abbiamo organizzato al volo detto dai chiacchieriamo un po' diciamo qualcosa diciamo qualcosa magari possiamo chiacchierare un po' di varie cose sia riguardanti black library che che è un po' in generale di waran quindi poi in generale a me è sempre è sempre piaciuta l'idea di avere di avere ospiti quindi ora è stato fatto un po' alla veloce infatti vedete che alla fine ho giusto inquadrato alla al rozzamente la schermata di discord però però bello però bello mi ha fatto molto piacere averlo come ospite e ed è un progetto nuovo assolutamente perché ho visto anche in chat che appunto non era non era una cosa che tutti sapevano però sono davvero davvero contento nick monello con questa mossa il mio amore verso di te ha fatto level up tanto love tanto love apprezzo tutti tutti quelli che mi apprezzano assolutamente grazie mille vedremo vedremo io sono davvero molto contento per questo progetto io ho avuto occasione di parlare con francesco anche appunto prima di questa di questa live perché abbiamo appunto intrattenuto una bella chiamata prima di dire ma parliamo su discord a sto punto e e quindi abbiamo chiacchierato un po' e mi ha fatto molto piacere mi ha descritto un po' il progetto mi ha dato qualche dettaglio interessante e secondo me è davvero promettente ragazzi può nascere qualcosa di davvero figo davvero figo e finalmente duraturo nel senso non qualcosa per cui ci tirano fuori magari un paio di libri e poi tanti saluti ma un bel progetto solido che va davanti quindi sì 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 contento contento qualcuno che pubblica i libri e ho visto tra l'altro che prima veniva chiesto nel senso fondamentalmente con chi stavo parlando allora io sto parlando con francesco che è la persona che ha appunto è stata coinvolta in questo progetto di alla nera edizione lui fa appunto diciamo da da portavoce da direttore commerciale un po' di questo di questo progetto e quindi è stato lui per la prima volta a fare l'annuncio infatti cos'è stato due giorni fa due giorni fa c'è stato questo annuncio e quindi se ne è iniziato a sentire parlare davvero davvero un bel po' infatti ho visto subito tra l'altro tanto scientificismo perché ovviamente essendo comunque veterani di anni in cui dici va no figurati se arrivano chiaramente se arriva una persona che all'improvviso ti dice guarda che lo facciamo veramente è naturale che le persone dicono is it fake news e quindi c'era era normale vedere un pochettino di scetticismo però invece 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 era tutto vero io non ci credevo ma allora ti giuro ma era lecito non credici inizialmente perché comunque dici ma siamo seri perché uno abituato ad avere la mentalità del non arriverà mai io stesso quindi era normale che inizialmente ma non so e invece e invece non per dire quando io ho scritto su youtube ah ma eri tu eri tu io ho scritto che sarebbe stato un eretico ho messo il mi piace il tuo commento ho messo il mi piace il tuo commento perché ho adorato ho riso tantissimo ho visto le risposte al commento ho detto no vabbè fantastico fantastico apprezzato tantissimo bello bello quindi sì marco bella mappa sì è una bella mappa perché è molto nuova l'hanno realizzata proprio per la terza edizione di warhammer e giossigmar ed è disponibile sul sito di giossigmar è molto bella l'apprezzo davvero tanto specialmente perché hanno aggiunto le lune hanno aggiunto le lune ed è una cosa molto carina quindi sì ma di edizione in edizione aggiungono sempre più dettagli molto bello e cos'altro allora mi sono perso magari qualche domanda qualche commento Fabius Bile ad esempio anche a te ho visto i commenti su i commenti su youtube con te che chiedevi Belusarius the great work e ho detto sì 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 ho letto Fabius Bile ho detto beh però non è necessariamente lui poi ho letto il commento ho detto Belusarius Cole the great work è lui è lui so che è lui perché è proprio lo so che è un forte amore per quel libro come è giusto che sia perché è davvero bello quindi sì il rame della vita ha una luna su una luna sì hanno letteralmente delle delle lune binarie sì 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 se guardi anche Ulgu anche Ulgu ha una ha una luna binaria sì sì decisamente eh sì e poi cos'altro cos'altro avevamo magari qualche domanda che mi ero perso poi ovviamente parliamo anche dei templari neri assolutamente parliamo delle altre cose ragazzi però ovviamente qui c'è la biblioteca nera che divampa potente quindi eh ah giusto continuando un attimo il discorso di chi traduce chi traduce cosa c'è ovviamente tutto c'è ovviamente tutto un team e ovviamente grazie grazie Francesco che è arrivato a darmi il follow con con neocustom miniatures grazie mille grazie mille per il follow e andate a seguire andate a seguirlo voi stessi andate a seguire voi stessi il suo canale per i suoi contenuti e quindi sì ovviamente alla nera edizione avrà il tutto senza avrà tutto il suo il suo team di traduttori tutte le ovvie figure professionali di una casa editrice che si andranno a occupare di tutta la sfera della la traduzione sì sì io me l'avevi fatto una domanda ah giusto è vero è vero me l'avevi fatta poi perdonami me l'ero persa all'inizio pensi ci sarà speranza anche per i libroni di campagna di russeresi allora ma io penso che il progetto sia principalmente puntato a black library black library e ah su youtube giusto è vero è vero è vero andatelo andatelo a cercare sul su youtube neocustom miniature perché lì è che effettivamente produce tutti i suoi contenuti un gran bel canale e quindi diciamo allora io so che il progetto attualmente ha un focus su black library quindi dato che stiamo parlando di black library non stiamo parlando di forge world quello credo sia qualcosa di totalmente diverso e che quindi starebbe a un'ulteriore sfera sfera differente quindi per ora io sinceramente non riporrei futili speranze verso appunto anche i manuali grossi perché ora direi che c'è un focus per la parte principalmente narrativa romanzata ma quindi ogni reame è un pianeta a sé stante allora diciamo sì nel senso permettiti di linkare assolutamente assolutamente non avevo link a portata altrimenti l'avevi fatto io stesso hai fatto benissimo hai fatto benissimo diciamo sì nel senso di c'è una sfera che è fondamentalmente come se fosse una sua dimensione infatti si chiama proprio la sfera del reame e e ogni sfera ha una parte diciamo piana quindi diciamo che letteralmente si può dire che sono tutti terrapiattisti e però questa volta hanno ragione e quindi effettivamente è piatta però ovviamente in tutto questo tra virgolette piatto in realtà ovviamente c'è tutto ovviamente catene montuose interi oceani vastissimi ovviamente in realtà il cielo non è vuoto perché in realtà tramite le varie correnti magiche ci sono tutte le isole volanti e qualsiasi altra cosa sopra e sotto però diciamo che per quanto sia una sfera a sé ogni sfera è principalmente stabile al centro al centro è dove si formano le civiltà perché lì la magia per quanto comunque permetta grandi cose comunque all'esterno è ancora più selvaggia più vai verso l'esterno del reame e più la magia è qualcosa di totalmente ribelle può succedere davvero l'inimmaginabile qualcosa che nemmeno l'artwork più fantasioso e più lovecraftiano potrebbe rappresentare finché non si arriva al confine del reame il confine del reame è qualcosa di mistico e che è differente probabilmente sia tra ogni reame che probabilmente in base alle persone che hanno l'esperienza di andarci quindi è qualcosa di la magia è proprio il massimo e tra ogni reame c'è il vuoto eterico che è diciamo una magia neutra però ovviamente per quanto siano a sé stanti i reami è possibile passare tramite i vari cancelli e altri mezzi di trasporto sì 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 quindi ora abbiamo una mappa ancora più bella e definita dei vari reami visti nella loro completezza sì 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 infatti sono molto curioso di vedere ulteriori sviluppi figurati sono qua per rispondere a tutte le domande la lore è importante poi c'era qualcos'altro che magari mi sono un attimino perso non credo però questa volta credo di essere poi ovviamente se c'è qualcosa che sapete voi che mi sono perso lecito riproporre brutto cretino quella domanda che ti avevo scritto non l'hai vista eccola qua fate bene per il resto io passerei a parlare dei templari neri perché ragazzi un altro argomento molto interessante oltre a la fantastica Black Library in italiano di cui ovviamente riparleremo presto abbiamo anche un certo arrivo dei templari neri i templari neri hanno ricevuto un bel tot di rumor di voci di corridoio negli ultimi tempi negli ultimi mesi e il codex delle Iron Hands beh c'è il supplemento ma che ovviamente sarà anche così per i templari neri ragazzi non ci sarà nel senso non aspettatevi codex templari neri attenzione nel senso io non ho alcun dubbio sul fatto che sia il supplemento templari neri ormai il codex space marine funziona così hai la base del codex space marine che fornisce tutto a tutti e poi c'è il tuo supplemento se vuoi giocare un certo capitolo molto particolareggiato tra quelli appunto di prima fondazione o a questo punto ci sarà anche quello dei templari neri anche se bisogna dire che oltre ai templari neri in realtà abbiamo anche i templari abbiamo anche i templari da no non tanto i templari d'argento ma i i tom keepers tom keepers per quanto non abbiano un loro supplemento raccolto in un singolo libro in realtà hanno talmente ormai talmente tanto materiale pubblicato su white dwarf che hanno letteralmente il loro supplemento completo i templari neri veramente senza non ho veramente alcun dubbio sul fatto che arriveranno così perché quello adesso è il metodo di pubblicazione grosso codex supplementi che ti danno di più per un certo tuo capitolo a cui sei appassionato e appunto ovviamente quello delle mani di ferro c'è già i templari neri invece stavano aspettando da un bel po' di tempo nel senso per quanto avessero a un certo punto ho recuperato un po' di regole un po' qualche regolettina giusto per rappresentarli in qualche modo comunque non erano un non avevano l'intera ecopea di regole pelle tutte costruite figate i tombkeepers sì no infatti veramente i tombkeepers ho apprezzato molto che ci siano stati questi ragazzi che ci hanno messo hanno messo un impegno folle nel voler proprio creare un capitolo e dire ragazzi adesso lo scriviamo da ogni angolo da cui lo dobbiamo prenderlo lo scriviamo narrativamente perché ci facciamo gli scriviamo racconti lo scriviamo narrativamente invece dal punto di vista della lore generale lo scriviamo le regole il tombkeepers è stato davvero un bel progetto da parte loro l'ho apprezzato davvero tanto tra l'altro appunto con i decal con le decal pure personalizzate quindi davvero tanta attenzione non solo di pubblicazione scritta quindi si 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 davvero bello davvero bello e ci vediamo martedì sarò assolutamente presente in chat mi farò vedere assolutamente è stato è stato un grande piacere quindi appunto i templari neri invece qualche regolettina nei codex però appunto già dall'inizio del 2021 si iniziava a sentire un però mi sa che guarda arriverà qualcosa arriverà qualcosa e man mano questo qualcosa si è si è assemblato si è costruito man mano si è cresciuto con arriverà questo arriverà quest'altro guarda che quest'altro abbiamo ricevuto un po' di dettagli in più finché avendo un tot un tot di rumor sulle uscite abbiamo ricevuto finalmente la conferma alla fine dell'ultima dell'ultima warhammer preview online inaspettatamente abbiamo avuto la conferma ufficiale dell'arrivo dei templari neri i quali tra l'altro narrativamente andranno a intervenire nel conflitto di octarius quindi è molto probabile che li vedremo magari o nel primo libro di zona di guerra di zona di guerra octarius o magari nel secondo nel senso presumibilmente nel primo credo che li vedremo già lì e abbiamo già delle cose interessanti innanzitutto le voci parlavano di un'uscita ad ottobre il che effettivamente ha senso bene o male con la schedule delle uscite ha senso un'uscita ad ottobre tra l'altro ragazzi prima di esporre tutti i rumor vorrei precisare che questa è una fonte molto autorevole è la stessa fonte che effettivamente aveva già diffuso informazioni molto precise riguardanti Kill Team Octarius la stessa fonte che comunque ha anche parlato della non edizione di altre cose in maniera molto precisa assolutamente non vaga in dettagli che appunto si sono poi rivelati essere assolutamente veri quindi questa fonte ha detto la verità è una fonte che tra l'altro giusto come tra l'altro stava intervenendo Sagara è una fonte che attualmente presta la propria voce a Chapter Master Valdrak noto youtuber che io apprezzo sempre e quindi questa fonte parla piuttosto spesso con Valdrak e gli dona delle informazioni che ragionevolmente lui avendo molta esposizione mediatica internazionale comunque essendo che ovviamente diffonde in inglese ha diffuso ovviamente tante tante belle informazioni quindi sì Valdrak aveva ragione perché appunto la fonte di Valdrak aveva aveva assolutamente ragione che cosa che cosa è stato detto però perché magari ovviamente non tutti ragionevolmente non tutti seguono Valdrak o comunque non tutti magari seguono i rumori in generale per un motivo o per un altro una persona potrebbe non essersi aggiornata su queste su queste voci e tra l'altro sì Orusseres è breve anche perché in una passata live abbiamo assolutamente analizzato le foto leak che ci sono state di parte del contenuto quindi quello è assolutamente confermato per quanto non abbiano voluto dire nulla e che ha senso perché come è stato analizzato da un'altra parte era stato detto purtroppo adesso non mi ricordo da chi ma era stato detto un beh ha anche senso che non vogliono subito confermare l'arrivo di una nuova scatola di Orusseresi perché ragazzi attualmente il focus è sull'arrivo della terza edizione di Gio Sigmar e insieme ad essa ora annunciano anche che il team Octarius ha anche senso che non ti vogliono immediatamente sparare l'attenzione verso un'altra cosa che chissà quando la vogliono far uscire quindi è totalmente lecito però quelle foto sono vere si capisce si nota nella live che abbiamo fatto abbiamo letteralmente analizzato parti dei modelli e quelle parti dei modelli sono assolutamente diverse da qualsiasi modello Forgeworld in commercio quindi non c'è proprio non c'è proprio dubbio sì appunto si cannibalizzerebbero le vendite da soli non avrebbe non avrebbe senso e giustamente è stato giusto dare lo spazio dovuto ci sono delle tempistiche è una schedule di mercato quindi lecito rispettarlo nel frattempo però appunto i templari neri abbiamo avuto dei templari neri abbiamo avuto una conferma una conferma del loro arrivo il che effettivamente ci dà una grossa sicurezza sul fatto che le voci sentite siano autentiche queste voci non parlano in generale della regola di templari neri questo appunto abbiamo già avuto la conferma ma abbiamo avuto delle voci su che cosa fisicamente avremo di modelli ossia ossia abbiamo un po' di cose un po' di cose tra l'altro molto interessanti cose che allora alcune sono piuttosto intuibili infatti avremo nuovi modelli per Elbrecht per Grimaldus e per il campione dell'imperatore ma in realtà avremo anche un quarto e un quinto personaggio generico poi per carità anche il campione dell'imperatore di per sé è un personaggio generico perché non è solo uno però però alla fine è un personaggio speciale perché comunque è solo uno un particolare comunque una figura importante di un certo livello di una certa fattura ci sono però oltre al loro tre che vabbè non sto neanche a dirvelo sì saranno primaris non c'è neanche da chiederlo avremo comunque oltre al loro tre anche due personaggi le dita dovrei farle vedere bene avremo anche due personaggi generici che saranno un antico l'antico è lo standardiere un antico specifico dei templari neri attenzione specifico nel senso che evidentemente avrà proprio dei simboli immagino lo stand a partire dallo standard dettagli scolpiti proprio a tema templari neri nel senso quel modello non è un antico che poi potranno magari utilizzare tutti o meglio poi magari ce lo mettono lo standard generico magari questo non lo sappiamo potrebbero fare un kit che ha tutti i dettagli di templari neri ma a modo di montare uno standardo generico questo non lo sappiamo intanto però un'altra cosa che però è stata lasciata in dubbio è che forse forse potrebbe non essere generico nel senso potrebbe non essere l'antico dei templari neri nel senso un antico qualsiasi dei templari neri non si sa perché potrebbe essere un antico personaggio speciale è stato lasciato in dubbio quindi non sappiamo potrebbe essere un personaggio speciale potrebbe essere un personaggio generico ma comunque scolpito dei templari neri o potrebbe essere scolpito dei templari neri ma comunque con dei dettagli opzionali per tutti i capitoli generico comunque che magari lo dipingi tu del capitolo che vuoi l'altra cosa è ovviamente il castellano che rimane diventa l'equivalente del tenente primaris figurati se non approfittavano della cosa per fare un altro un altro tenente figurati secondo te a questo punto è lecito pensare che si stia avviando verso l'unità speciale primaris allora sì proprio perché adesso ci arriviamo avremo anche innanzitutto un kit di modifica dei veicoli e sono state menzionate delle armi termiche quindi vediamo non sappiamo esattamente in cosa consista questo ci saranno delle armi termiche è possibile che magari l'arsenale dei templari neri verrà un pochettino rinnovato avremo un'abbondanza maggiore di armi termiche qua e là è possibile non sappiamo però è stato citato questo dettaglio di ci sono armi termiche in questo kit di modifica questo vedremo proprio parlando delle unità speciali primaris sì assolutamente avremo sia i confratelli della spada che i crociati primaris e attenzione allora dei confratelli della spada sappiamo solo ok avranno un nuovo kit e ovviamente sarà modellato primaris ma allo stesso tempo c'è una bella curiosità invece sui crociati perché i crociati cos'hanno di particolare lo dico a tutti per chi magari non conosce così bene i templari neri le squadre crociate dei templari neri hanno la particolarità di schierare sia con fratelli con fratelli normali delle squadre tattiche quelle che normalmente rientrerebbero nelle squadre tattiche ma anche con fratelli che normalmente rientrano nelle squadre scout dei esploratori le squadre crociate combinano entrambe le cose schierano insieme questi due tipi di confratelli ma quindi cosa vuol dire creare una squadra di crociati primaris vanno ad essere semplicemente dei degli intercessor con un altro nome no attenzione non saranno quello perché è stato citato che i nuovi modelli dei neofiti avranno un loro look specifico ossia ovviamente i classici esploratori la classica estetica dell'esploratore è molto riconoscibile molto nota perché è più scoperta hanno proprio le braccia assolutamente visibili rispetto ai confratelli che stanno in totale armatura potenziata e invece i primaris loro già hanno una mark 10 modello phobos che già da sola ha una struttura differente e più leggera il punto è che invece questi neofiti avranno un ulteriore look differente saranno ancora più leggeri è stato letteralmente citato che le loro braccia saranno appunto scoperte quindi immagino che saranno appunto dei primaris avranno immagino dei parte di armatura ma allo stesso tempo sarà ancora più leggera della phobos quindi le braccia saranno scoperte ma comunque saranno primaris quindi sì bene o male dovremmo più o meno vedere quella che è la figura dello scout primaris fondamentalmente un'altra cosa molto interessante che è stata detta questa questa volta dal punto di vista delle regole invece è che assolutamente saranno presenti i voti i voti sono un dettaglio di regole che tutti i giocatori templari neri apprezzavano perché una persona doveva prendere dei voti un voto gli dava gli concedeva delle regole cioè tu prendendo un voto avevi un set di regole da rispettare e ovviamente appunto tanti hanno pianto la perdita dei voti col fatto che comunque non avessero più un loro codex o almeno un supplemento specifico con delle regole davvero ben corpose e quindi è stato precisato assolutamente i templari neri con quello che molto probabilmente sarà il loro supplemento torneranno ad avere i voti saranno magari i voti quelli che avevamo già visto tipo dell'ammazzare le streghe di odia l'alieno e tutti i vari perché proprio oggi effettivamente caso vuole che io abbia preso in mano il codex dei templari neri di quarta proprio perché dato che sto lavorando alla parte scritta di momento di ruolo e ovviamente i voti sono bene o male delle scritture sacre dell'adeptus astartes ho effettivamente trascritto tutti i vari voti dei templari neri all'interno di quello che sarà il documento di momento di ruolo preghiere nell'imperium quindi sì giusto oggi sono andato a rivedere i voti dei templari neri sarò felice di vedere cosa avranno di proprio di questi voti nelle future regole pubblicate in questa edizione mi stai facendo commuovere bene sono contento comunque positivo nudi sono nudi assolutamente barone nudi con catene sigilli ovunque assolutamente sì sì templari repentia sì sì assolutamente e quindi per ora noi sappiamo questo insieme ovviamente alla finestra d'uscita ad ottobre ciò diciamo che dovrebbe già dirci che zona di guerra octarius dovrebbe arrivare più o meno per quel periodo perché immagino che arriveranno abbastanza insieme zona di guerra octarius e e questo supplemento per i templari neri proprio perché comunque ci è stato proprio detto nell'articolo di resoconto della live dell'ultima preview online c'è stato proprio detto che i templari neri intervengono octarius non è semplicemente un hanno parlato di octarius e per caso nella stessa live hanno voluto fare il grande sorpresone ma poi non c'entra niente hanno esplicitamente detto che i templari neri narrativamente interverranno in quel conflitto quindi immagino proprio che le loro regole saranno abbastanza vicine come uscita alla nuova campagna narrativa quindi io sono assolutamente molto felice di questa cosa certo che ovviamente dici ma ha tanti altri space marine ma che palle però i templari neri ragazzi erano effettivamente quella cosa che anche lì tanti comunque volevano c'erano tanti giocatori space marine che desideravano assolutamente tornare a giocare i templari neri come l'imperatore comanda quindi sì hanno la loro grande caratterizzazione quindi meritano assolutamente di portarla di portarla in campo con delle regole apposite e anche dei bei modelli assolutamente sono curioso anche di vedere ovviamente i personaggi perché Grimaldus e Elbrecht sono molto molto curioso di vedere come saranno presenti come saranno rappresentati nella loro forma primaris un po' più per Grimaldus perché Grimaldus comunque è anche stato più presente a livello di scrittura di romanzi in particolare con Elzrich quindi è un personaggio di cui sicuramente uno può affezionarsi un pochettino di più per quanto anche Elbrecht abbia avuto la sua presenza romanzata però comunque Grimaldus è rimasto un po' più nel cuore e quindi diciamo che vedere lui che arriva alla forma di Primaris è sicuramente un'esperienza ok dai sono curioso di vedere cosa ti hanno fatto anche se per carità nel senso è anche lecito aspettarsi non necessariamente l'enorme rivoluzione di design nel senso abbiamo avuto anche forme Primaris molto tranquille del ok va bene ti abbiamo reso un po' più grosso ti abbiamo dato l'armatura un po' più lucidata però tranquillo non è che improvvisamente hai avuto la svolta emo come Shrike tranquillo che sei rimasto più o meno come prima sei rimasto più uguale di altri che sono cambiati un po' di più quindi non è detto che per forza ci sia l'enorme rivoluzione di design in che senso emo ma più che altro perché Shrike da quando si è tolto l'elmo adesso che c'è un bel ciuffetto molto emo style molto tenebroso molto ladro di D&D dal passato oscuro dal passato oscuro e triste l'ha abbandonato la famiglia è classico Shrike è proprio il classico background stereotipo di ladro di D&D è proprio quello è proprio quello io ho il background tenebroso è proprio lui Shrike è proprio quello proprio quello e il ciuffo madonna mia è stata proprio la coronazione del tutto sì 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 ma Shrike immagino che da quando si è tolto l'elmo io immagino tutte le tutte le waifu che si è beccato immagino un sorgere improvvisamente di serve del capitolo assolutamente assolutamente quindi cos'altro avevamo di cui parlare un'altra piccola cosetta di cui avevamo parlare erano sicuramente dalla parte dei reami mortali che avevamo citati prima trattati prima per parlare un po' della struttura dei reami io da scemo me lo sono tagliato il ciuffo ah guarda anch'io ho il ciuffo adesso o meglio non me lo sono tagliato ho fatto crescere tutto quello che c'era intorno perché immagino che chi ricorda il mio aspetto passato nel corso degli anni si ricorderà dei ciuffi vari che ho avuto ora è tempo ormai da un paio di anni in cui ho detto facciamo crescere di nuovo anche il resto anche se questa non è il massimo della lunghezza che ho avuto chi dimentica è complice ragazzi ragazzi voi non mi avete visto in anni in anni in cui io altro che il ciuffo altro che i capelli lunghi così lunghi così alla fine non è che sono così tanto lunghi mi arrivano un po' oltre le spalle adesso io ragazzi io li ho avuti che mi arrivavano al culo io li ho avuti un po' più lunghi ragazzi ricordo bene quando ti lamentavi che riglabori in faccia mio dio mio dio è vero vabbè adesso non è che sono proprio Gandalf però però sì almeno diciamo che parte dalla mia faccia è un po' meno rosa almeno quello sì sì mi piacevano e li odiavo no ti dirò io ammetto di non averli mai odiati poi parliamo di Jusigmar parliamo di reami mortali però adesso stiamo un attimo facendo fashion astropath dicevo io non l'ho mai odiati personalmente però semplicemente sono una persona che ogni tot anni può ogni tanto avere il pensiero di cambiare un po' stile specialmente per per quanto riguarda i i capelli capelli ci sono ogni tot anni che decido ma non lo so potrei magari lo faccio magari no però potrei quindi e quindi però no adesso fisso tranquillo cresce tutto cresce tutto assolutamente il ciuffo è diventato unico tutto tutt'uno ormai ha preso il sopravvento e sì sì e nichi il bianco certo guarda in webcam non si nota ma fidati che tranquillo che i miei capelli bianchi li ho già 27 anni a settembre però i miei capelli bianchi stanno già arrivando detto questo chiudendo la parentesi fashion astropate dicevamo dei rami mortali i rami mortali oltre a tutte le novità che abbiamo che abbiamo avuto ultimamente con la grande appunto preview online che ci ha dato tante belle novità riguardanti i stormcast e i crudelazzi abbiamo in realtà altro in realtà altro sotto forma di qualcosa di cui effettivamente avevamo già un pochettino discusso ossia i draconit i draconit sono quella specie che è sorta parlando di kragnos in broken realms kragnos se ricordate la discussione che abbiamo avuto ma se non la ricordate ovviamente io ripercorro un po' la lore i draconit sono sorti su broken realms kragnos perché erano quella civiltà senziente draconica che ai tempi di kragnos ai tempi ancora prima di quella che fu denominata l'età del mito ecco questi draconit si scontravano con la civiltà di kragnos però purtroppo a un certo punto si estinsero si estinsero ma si estinsero ma perché proprio in broken realms kragnos ci viene dato quel piccolo suggerimento riguardante delle uova delle uova di gli ultimi esemplari neanche ancora esemplari perché erano ancora uova ma comunque le ultime uova date ai serafon all'islam ecco questo piccolo suggerimento noi l'abbiamo proprio tirato fuori durante la live di discussione di broken hands kragnos perché sapeva proprio proprio tanto tanto di suggerimento che vuole dirti magari ci facciamo dei modelli magari no però ce la teniamo lì però ce la teniamo lì che sai mai che li recuperiamo perché è estinta la specie a quanto pare però guarda un po' ci sono ste uova che girano le sono lì custodite magari a un certo punto le facciamo schiudere e e infatti appunto avevamo proprio discusso di questo aspetto del fatto che questi draconit chissà potrebbero dato che comunque vengono custodite nei pressi di azir dici ma non so i draconit in realtà magari sono stati già fatti schiudere o almeno parte di queste uova sono già schiuse in passato ed è da lì che sono sorti sorte le creature che a un certo punto grazie a dracotion sono diventati gli star drake gli draghi stellari e varie altre forme draconiche di azir oppure semplicemente non si sono ancora schiuse in alcun modo e magari a un certo punto le vedremo magari proprio di ancora associate agli stormcast perché comunque hanno gli stormcast hanno un grande rapporto proprio di familiare con le forme animali draconiche o anche appunto quelle senzienti come varie forme draconiche un po' più intelligenti varie varie creature draconiche gli stormcast hanno veramente un rapporto micidiale con queste con queste creature potevamo magari vederle come ulteriori cavalcature o magari invece come rinforzi dei seraphon diciamo che c'erano i dubbi al riguardo le ipotesi e effettivamente effettivamente l'ultimo racconto di broken realms perché per quanto broken realms sia a tutti gli effetti finito dal punto di vista manualistico in realtà dal punto di vista narrativo continua invece perché ci sono comunque dei racconti che vengono ancora pubblicati su warhammer community con il con il brand diciamo il titolo ovviamente oltre a quello dello specifico racconto ma broken realms sopra di tutto soprattutto quindi broken realms diciamo che non so se vogliano tenerlo comunque come parte narrativa di racconti che continueranno a darci storie in questa terza edizione o se a un certo punto vorranno semplicemente concludere questa serie e a un certo punto dare vita a un'altra magari con qualche altro evento particolare altre campagne narrative interessanti e questo ovviamente non possiamo saperlo ma nel frattempo comunque attualmente continua e nel frattempo questi draconite appunto sono stati citati in quest'ultimo racconto insomma oltre ad essere stati citati ci sono state dette delle informazioni interessanti su quello che potrebbero fare come le uova del drago di trono di spade più o meno nel senso diciamo che uova di una razza bene o male pressoché estinta e dici le teniamo lì diciamo in stasi e chissà se un giorno ne faremo qualcosa però lì non è tanto un come trono di spade è più tipo c'è la persona che si lega al drago del genere qui sicuramente c'è quello che si lega ma in un rapporto sicuramente un po' diverso i draconidi che forma di vita sono perdonate l'ignoranza allora con draconidi e allora in generale per definire creature che assomigliano a draghi anche il dracot gli star drake tutte quelle creature che bene o male sono rettili che richiamano i draghi più o meno quelli sono tutti draconidi però c'è una specie specifica che si chiama draconit i draconit sono appunto una specie vissuta prima ancora dell'età del mito e che appunto si è estinta ma di cui esistono ancora delle uova quindi si estinta ma tecnicamente estinta tra virgolette perché non esiste più nessun esemplare vivo ma tecnicamente ne esistono varie uova che vengono tenute lì e non vengono ne viene impedita la schiusura quindi si è estinto ma potrebbero non esserlo più come tornano perché il loro aspetto non ci viene particolarmente precisato immagino che siano comunque di aspetto molto simile a un classico drago il punto è esistendo già lo star drake come si come vogliono differenziarli perché in questo racconto ci viene proprio detto che a quanto pare i draconit devono finalmente tornare adesso vado proprio a recuperare un attimino il passaggio del del racconto proprio per farvi un attimo prendere prendevi un attimo la frase alla fine proprio loro c'è un tra i protagonisti c'è un personaggio che cita proprio il fatto di dover far tornare la presenza appunto di questi draconit i draconit devono essere di nuovo presenti il punto è che uno cinco chiede diciamo ma e quindi combatteranno insieme alle schiere stellari nel senso combatteranno insieme alle nostre normali schiere dei serafon e purtroppo però gli viene detto no no perché a quanto pare dovranno fare altro perché dice dovranno per come adesso vivono perché ci viene detto anche per come adesso vivono quindi evidentemente almeno alcune uova le hanno già fatte schiudere quindi è probabile che nel momento in cui ho invitato il racconto è già avvenuta la nascita di alcune di alcuni esemplari da quelle uova tanto antiche quindi sì magari sicuramente ne faranno escludere altre ma qualcuno evidentemente c'è già e oltre a questo ci viene detto che richiedono della leadership del qualcuno che li guidi delle alleati adatti e diciamo che alla fine ci dice una nuova era inizia un'era di scaglie ma anche un'era di tempesta oltre a questo non viene detto solo tempesta perché ci viene proprio citato sigma rabulum in sostanza ci viene proprio detto che sì a quanto pare questi draconit combatteranno al fianco degli stormcast il punto è come perché sono sono delle dei draghi che verranno comunque cavalcati perché attenzione essere cavalcato in guerra non vuol dire per forza essere la bestia sottomessa cioè attenzione per quanto cioè comunque anche lo star drake è cavalcato ma con il suo cavaliere ha un bellissimo rapporto proprio di simbiosi in questo caso però stiamo magari parlando di esseri proprio che erano una specie senziente a sé proprio molto simile a quelli che erano proprio i draghi classici di warhammer e quindi ci verranno comunque cavalcati come ed effettivamente venivano cavalcati d'altronde i classici draghi di warhammer nel senso avranno qualcosa di quel tipo o invece saranno un combattiamo a fianco a voi ma nel senso sì siamo alleati però non mi mettere una sella sulla schiena nel senso non quello ovvio che l'intuito ti porta al cavaliere nel senso che saranno cavalcati però non lo sappiamo effettivamente non è detto non sa poi no appunto non sappiamo esattamente come siano fatti questi draconit quindi chissà magari in realtà hanno delle forme che non sono proprio esattamente cavalcabili che ne sappiamo non lo sappiamo lo dobbiamo ancora vedere non abbiamo una descrizione ben precisa però nel frattempo sappiamo che in qualche modo comunque combatteranno insieme a loro durante questa guerra chissà per ora ci hanno già rivelato un bel po' di cose quindi non sappiamo se sono dei modelli che ci hanno anticipato e che vedremo magari tra non molto o se invece sono un noi iniziamo a dirvelo però li faremo arrivare tra un po' tra un bel po' questo anche lì è nel reame del bro però intanto ci hanno chiaramente detto che in qualche modo a un certo punto arrivano dobbiamo solo aspettare draconite mi sto immaginando la versione evolutiva tipo i raptor piumati però quindi sono rettili però non sappiamo se siano bipedi quadrupedi o altro sì allora effettivamente non sappiamo bene se siano magari il drago diciamo il drago la game of thrones che diciamo che ha l'aspetto un po' più da viverna diciamo da gambe e gambe c'è zampe posteriori e ali con dita o se appunto classico drago quattro zampe due ali o se hanno qualcos'altro di ulteriormente strano cioè se magari sono perché comunque di creature simili appunto draconi che ne abbiamo avute un bel po' e continuiamo ad averne in in nei reami mortali quindi abbiamo tante forme diverse e chissà quali potrebbero avere questi questi draconi però sono davvero curioso davvero curioso di vederli perché io purtroppo personalmente non apprezzo minimamente la scultura dello star e dei dracot mentre le cavalcature simidraconiche delle camere sacrosanth quelli già mi piacciono molto di più i dracot e gli star drac proprio purtroppo non mi sono mai piaciuti mi sono mai piaciuti in particolare vi dirò sulla parte del muso i volti diciamo i volti di dracot e star drake non li ho mai apprezzati come scultura specialmente anche perché so chi li ha scolpite esatto sono sculture alla non sono proprio alla trish carden sono di trish carden sullo star drake ammetto di avere un attimo il dubbio se siano proprio di card della carden invece i dracot sono sue sono sue sculture ne sono assolutamente sicuro lo so per certo carden guarda ha fatto anche dei modelli che ho apprezzato assolutamente non è io sputo sul lavoro però tante altre devo dire che di carden non non apprezzo specialmente esatto proprio bocche zampe bocche come fa bocche zampe e come posiziona le zampe perché ovviamente mannaggia carden c'è sempre sta cosa che deve mettere una zampa poggiata e una zampa affanculo che veramente si deve proprio sempre mettere questa cosa una zampa deve andare da qualche parte fra la zampotta che sta alzando così e le bocche proprio ecco il drago carminio il carmin dragon effettivamente già quello mi piaceva molto di più già quello mi piaceva molto di più però appunto questa cosa di tante altre sculture specialmente nelle bocche e il dracot e lo star drake veramente io dicevo madonna mia hanno delle illustrazioni i dracot e gli star drake ne hanno anche alcune che non sono proprio magnifiche perché sono tanto 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 ispirate al modello ma alcune che sono appunto un po' più libere hanno mostrano le potenzialità dell'aspetto che potrebbe avere un dracot o uno star drake e hanno delle illustrazioni bellissime cioè io mi ricordo adesso non riesco a recuperarvelo al volo credo ma c'è un'illustrazione di un di un di uno stormcast in sella uno star drake che è letteralmente bello proprio un dipinto bellissimo dici oddio se sto star drake è figo però purtroppo la scultura madonna mia quindi diciamo che da una parte la mia speranza è che possano magari essere delle creature diciamo stazza star drake ma con una scultura magari che mi piaccia molto di più ovvio che non sostituisce lo star drake è per carità lo star drake rimane lì e ovviamente dici vabbè gusti non mi piace pace sta lì è buona lì però mi piacerebbe magari vedere altre creature di stampo drago fighe d'altronde appunto non mi sono piaciuti i dracot però almeno in seconda edizione la camera e sacro sant hanno avuto invece la loro cavalcatura che invece hanno delle bestie simili rettili invece molto belline quelle quelle cavalcature mi sono piaciute molto invece ma come poi vabbè mi sono piaciute anche i griff charger cioè nel senso le varie creature pennute poi vabbè a me coi pennuti ragazzi io i pennuti le varie cavalcature che sono ispirate a volatili io le adoro nel senso io mio dio io già vabbè sono fissato con qualsiasi cosa che sia di pennuti vari anche nei giochi di ruolo nei giochi di ruolo datemi dei personaggi oh fammi vedere l'immagine fammi vedere un attimo allora questa si questa già mi piace ma ce n'è un'altra allora a sto punto la cerco un attimino stormcast vediamo se la trovo un attimo perché si quella me la ricordo ed effettivamente è bella però dannazione ce n'era un'altra eccola qua ecco ah non era proprio in sella ricordavo male c'è questa che adesso vi faccio vedere mi pare che comunque ce ne sia un'altra che ricordo vagamente che anche essa era bella aspettate vela linco vela linco in chat ecco ho preso il link perché non l'ho preso eh quanto lungo sto quanto lungo questo link eccolo qua si vede si vede a posto e quello è già un artwork che non è esattamente quello che avevo in mente però però mi piace marcus hall grazie mille per aver fatto la resale grazie mille ovviamente tutti gli abbonati tra poco riceveranno le anteprime di momento di ruolo perché comunque il documento è davvero tanto corposo vi dico guardate ve lo guardo letteralmente subito momento di ruolo preghiera nell'imperium ha attualmente raggiunto le 5732 però parole con 35731 caratteri quindi è già bello cazzuto e non l'ho finito quindi tra poco vi invierò tra poco adesso poi nel weekend vi invierò le anteprime del del documento così vedete già il lavoro più o meno il layout di come è strutturato il documento più o meno come vuole essere fatto ovviamente insieme all'anteprima il documento vi farò un pochino delle specifiche un commento per dire adesso sto lavorando a quello il layout verrà ulteriormente arricchito da queste cose qua quindi vi farò sapere tutti i dettagli man mano perché man mano che io creo il documento aggiungo cose al diciamo al copione del video perché ovviamente il copione del video andrà anche un po' a discutere le varie categorie del documento in generale cosa vuol dire pregare nell'imperium com'è la religione nell'imperium un po' queste cose che nel senso sono varie cose che potete chiaramente trovarle nei manuali però vado a farvi qualche piccola specifica carina che appunto come tutto momento di ruolo andrà ad arricchire l'interpretazione però andiamo a vedere anche questa immagine eccola eccola questa intendevo esattamente questa è che appena linkato questa è davvero bella ecco questa la faccio proprio vedere nel la faccio vedere in stream perché è proprio bella era esattamente quella che avevo in mente porca merda non me l'avrei ritrovata non l'avrei ritrovata perché non perché effettivamente mi ricordo che quell'illustrazione in realtà è un zoom di un'illustrazione più grande quindi probabilmente non sarei riuscito a ritrovarla allora aspetta che la metto eh almeno anche chi ma uno ce l'ha subito al volo la guarda eccola qua intendevo questa qui intendevo questa qua questa a me piace tantissimo è bella la trovo veramente bellissima era su warm community ah diamine me la sono magari invece era facile pensavo fosse difficile trovarla però sì questa qua è questa qua ha messo l'illustrazione sempre piaciuta tantissimo appena quando l'ho vista per la prima volta dicevo mio dio cosa poteva essere la scultura dello star drake doveva essere una madonna di miniatura una figata allucinante purtroppo purtroppo così non è stato oh poi chissà oh nel senso non è che se vi esiste in plastica non si può rifare magari un giorno decideranno di rifare certe miniature stormcast già esistenti e ricicceranno fuori un nuovo star drake chi lo sa magari faranno uno star magari potrebbero fare uno star drake anche nuovo per a tema a tema armature thunder strike potrebbero dire a sto punto questo star drake e poi utilizzarlo anche ovviamente con classici stormcast con le altre armature nel senso non è che quelli prima non esistono più nel senso è come dire esiste facciamo il modello di un di un nuovo cavaliere con un'altra armatura gli altri non è che li abbiamo accoppati tutti e non è che non esistono più e non è che le altre armature non le facciamo più è un'armatura quindi chi lo sa chi lo sa quindi è questo qua è veramente molto bellino volevo farvelo volevo farvelo vedere un momento grazie mille Fabius Bile per avermi fornito l'immagine al bolo quindi appunto vedremo appunto questi draconit che aspetto potrebbero avere in che forma potrebbero essere presenti come rinforzi e tra l'altro ragazzi avremmo letteralmente sul campo qualcosa che a parte vabbè la gente che arriva dal mondo che fu ok però intendo gente che oltre a Kragnos è esageratamente antica per Reami perché ovvio che se vai a contare quelli che arrivano dal mondo che fu hai tutta questa pletora di personaggi grande appunto arriva dal mondo precedente però arriviamo adesso ad avere anche gente che semplicemente è antichissima per i Reami ti dici addirittura arriva da ben prima che si parlasse di età del mito questa è una figata ragazzi perché appunto diciamo che si parlava tanto di età del mito appunto dall'arrivo di Sigmar però comunque si sapeva cioè se uno va a leggere bene vede che quando arriva Sigmar non è che non c'è niente non è che arriva lui ti pianta una martellata su un Reami e dice adesso c'è la vita no lui arriva che la vita c'è già quindi qualcosa c'è già stato di storia o se vogliamo chiamarla pre-storia pre-storia che appunto arriva prima dell'età del mito e quindi adesso con Kragnos e a un certo punto con i Draconit vediamo qualcosa che arriva addirittura dalla pre-storia dei Reami mortali e lo trovo una figata narrativa assoluta assoluta molto bello molto bello quindi ragazzi allora per stasera abbiamo bene o male esaurito gli argomenti abbiamo detto tra l'altro veramente un bel po' abbiamo fatto anche quel piccolo grado di off topic carino che io apprezzo e abbiamo avuto veramente una bellissima chiacchierata con Francesco veramente ho detto è stata organizzata al volo ma è venuta bene mi è piaciuto sapete ho detto a me un giorno piacerebbe avere altri ospiti io a un certo punto organizzerò assolutamente perché comunque ricordatevi che io comunque mi tengo in contatto con i vendemmiatori implacabili con la guida galattica quindi comunque ce ne sono di creatori di contenuti o anche non creatori di contenuti con cui vorrei interagire all'interno di una mia live quindi gli ospiti a un certo punto li vorrò avere ne vorrò avere un po' di più assolutamente domanda martedì fare una live in contemporanea con Francesco no però lui dato che lui sarà ospite sul canale Twitch di Weird io semplicemente sarò presente in chat per magari fare io stesso magari delle mie domande o comunque per essere presente anche sicuramente a livello scritto durante la live per partecipare un po' allo stream sì 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 però altrimenti nel mio normale programma io farò streaming solito del martedì sì 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 detto questo ragazzi contento di avervi di aver fatto grande chiacchierata di aver fatto di aver detto tutto di avervi detto varie cose sia per tutti i vari progetti esterni per la lore per i miei progetti di tutto abbiamo di tutto abbiamo discusso oggi proprio soddisfatto da questa live sono contento sono contento contento anche che voi appreziate tutto ciò che faccio benissimo a questo punto finiamo io vi aggiornerò per quanto riguarda le anteprime per il resto ci sentiremo come al solito e io vi auguro a questo punto buona cena se non avete ancora cenato e per il resto buona serata ragazzi è stato un grande piacere ciao 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 Grazie a tutti.